Buongiorno a tutti, dopo di avere fatto due interventi di tipo diverso in relazione al bosone di X o alla particella di Dio, vediamo di trattare l'argomento partendo proprio dalla esperienza fatta nei laboratori del CERN in cui lanciando delle particelle a grandissima velocità l'una contro l'altra si è prodotto il cosiddetto bosone di X che è stato fotografato come la particella che scaturisse dalla frantumazione di queste particelle scagliate una contro l'altra quando la fisica si avvale di strutture così complesse per osservare la realtà dovete sapere che essa è rappresentata usando sette dimensioni che sono quelle dello spazio, del tempo, della massa, del flusso della realtà spazio-temporale, del flusso della realtà termica, del flusso della realtà della molecola, del flusso dell'intensità unitaria della luce, queste sono le sette unità fondamentali della fisica che sono state fatte rientrare tutte in un perfetto ciclo di dieci decimi. Questa iniziativa partì in Francia nell'Accademia delle Scienze in cui gli illuministi ragionando sul fatto che si volesse la pulizia tanto che una particella se abbinata al numero uno della matematica che segue un ciclo dieci fosse coerente con la matematica che noi usiamo affinché la matematica divenisse immediatamente esplicativa della dinamica della particella e quindi significativa nei suoi numeri, bisognava far sì che dai fenomeni che accadevano nella realtà si determinasse un insieme di unità che fossero tutte veramente esistenti in un ciclo unitario di dieci decimi. Non si è partito dal metro così dicendo beh tu amico mio per convenzione fai una dinamica totale nel ciclo dieci. No, è stato calcolato il metro in modo che rientrasse in un ciclo dieci. già l'ho spiegato come è stato fatto ma bisogna che lo ripeta brevemente per chi non lo sa o non se lo ricorda. Il modello di riferimento di tutto lo spazio, il tempo, la massa e la sua libera rotazione è stato assunto nel nostro intero mondo nella terra e considerato che la terra è più o meno una sfera che racchiude la massa in una serie di meridiani che la circoscrivono in tutte le sue quantità di angoli nell'angolo giro e invece da paralleli diversi tra di loro perché l'equatore è il massimo poi a mano a mano che si sale sono più piccoli. L'elemento tra i due che fosse rispettoso della massa iscritta nella circonferenza chiamata meridiano fosse tale da dire questa è la linea che racchiude la sfera. Quindi se noi vogliamo rappresentare il contenuto della sfera possiamo usare la linea della circonferenza massima del meridiano che assorbe gli spanciamenti che ci sono perché poi li suddivide in tutto il suo intorno di conseguenza poiché se noi vogliamo arrivare alla sfera partendo dalla circonferenza massima della sfera non c'è altro che da applicare una formula ecco che il rapporto tra la linea della circonferenza e il volume è determinato da quella formula. Quindi se noi vogliamo rappresentare in linea tutto il volume dobbiamo ricorrere a la circonferenza che lo racchiude tutto e considerarlo nella sua circonferenza. Dopo bisogna tenere presente che noi abbiamo quattro dimensioni nella realtà, tre di spazio e una di tempo, per cui il tempo messo a numeratore di un denominatore che ha quattro dimensioni, ossia x, y, z e t, il tempo solo è uno su quattro, uno su quattro in matematica è un quarto. Quindi un quarto della lunghezza del meridiano era il tempo un quarto e questo tempo un quarto che è il tempo unitario perché appunto il tempo è uno su quattro doveva rispettare una conformazione matematica che fosse poggiata su 10 elevato a 10. Quindi il riferimento fu un quarto della lunghezza del meridiano considerato come 10 elevato a 10. Che cosa? Decimetri cubi. Cosa centrava il decimetro quando non esisteva ancora il metro? Infatti il metro non c'era e il decimetro che cos'era? Era semplicemente questa riflessione. Poiché uno deve esistere nel ciclo di 10 decimi, allora bisogna che uno sia un decimo di 10. E quindi se io pongo 10 decimetri uguali un metro, io ho collocato esattamente la quantità unitaria della massa messa in riferimento a un metro come 10 volte il decimetro. Quindi la sua presenza 1 più la sua dinamica 9. Perché il numero invariante quando si usa un sistema decimale è il numero 9. Quindi 1 più 9 uguale 10 determinava in una delle 10 quantità la presenza in linea della massa la quale poi esisteva necessariamente a livello di volume. Quindi posto un metro da definire come un metro cubo il decimetro cubo rientrava nel metro cubo esattamente come la millesima parte. quindi su questo iniziale assunto che il volume dello spazio di un metro, quindi un metro cubo contenesse esattamente 10 al cubo come tutte le masse fu posto. 10 non al cubo ma 10 alla 10 ossia all'intero, in decimetri cubi, come l'arco di un quarto del meridiano terrestre. porre un quarto del meridiano terrestre come 10 elevato a 10, che è tutto quando il 10 esiste sia nella base sia nell'esponente, significa considerare che quell'arco del meridiano è la presenza di tutta la massa collocata in decimetri cubi, quindi decimetri cubi 10 elevato a 10, per una lunghezza 10 elevato a 10, poiché il fronte di questo anello fatto tutto di decimetri cubi affiancati era un decimetro quadrato. calcolato il volume della massa tutta messa una in seguito all'altra, questo volume è stato accorpato in un metro cubo in un metro cubo e si è fatto questo scatto, questo passaggio di considerazione. Quanto è lungo? Un quarto del meridiano terrestre, se quel volume in decimetri cubi si accorpa in metri cubi. Quindi, basta fare un calcolo di matematica. 10 elevato a 10, poiché un metro cubo ne contiene 10 al cubo, determina il numero di metri cubi accostati pari al calcolo. 10 elevato a 10 diviso 10 elevato al cubo uguale 10 elevato alla 7. 10 elevato alla 7 è 10 milioni di metri cubi. Quindi, un quarto della terra doveva essere considerato pari a 10 milioni di metri cubi, per una lunghezza identica di 10 milioni di metri, poiché a questo punto la sezione era diventata un metro quadrato. Quindi, questo consentiva di calcolare unicamente la lunghezza di 10 milioni di metri, sapendo che erano anche i metri cubi corrispondenti ai 10 elevato a 10 decimetri cubi, esprimenti la totalità della massa. Quindi, vedete, il quarto della circonferenza terrestre è stato posto in metri cubi che rispettano la quantità dei decimetri cubi interni, quando sono tolti da questo aggregato di mille e messi in sequenza uno dopo l'altro. Quando sono messi in sequenza uno dopo l'altro, sono esattamente 10 elevato a 10, ossia il valore unitario posto a riferimento. Perché questo vogliamo ottenere. Qual è il metro? Considerato un modello matematico pari a 10 elevato a 10, che consenta di discendere al valore esatto che deve avere il metro. proprio nel rispetto di avere una quantità di un quarto di meridiano di cubetti di unità di decimetri cubi affiancati in modo che nella lunghezza esprimono anche il volume. poiché la lunghezza del quarto del meridiano esprime il volume della Terra, la lunghezza 10 alla 10 di decimetri cubi, che esprime il volume, esprimeva in perfetta coerenza anche il volume del contenuto iscritto dentro il meridiano. di conseguenza la Terra doveva essere lunga quattro volte 10 mila metri, 10 milioni di metri, quindi 40 milioni di metri. e il metro derivava dalla lunghezza reale del meridiano terrestre divisa per 40 milioni.